E' davvero ricco il calendario del mese di dicembre del centro commerciale Rondinelle di Roncadelle. E' iniziato mercoledì Street Magic che si ripeterà il 14 e il 21 dicembre dalle 16 alle 19 nella zona food del centro e per le gallerie. Domenica 11 dicembre inoltre dalle 18 Accademia Magica con Alex, Silver e Tabeta e Serena. Domenica 18 protagonista la musica, dalle 18 infatti ci sarà il live acustico di Ron. Venerdì 23 inoltre in occasione dell'apertura fino alle ore 23 ci sarà lo spettacolo dalle 18 con Raul Cremona e dalle 21 con Antonio Casanova. Vi aspettiamo dunque al centro commerciale Rondinelle di Roncadelle anche per provare la nuova pista sul ghiaccio.